Il Comune ha presentato in linea di massima perché il programma definitivo ci sarà dopo la riunione del Comitato Ordine e Sicurezza Pubblica, l'iniziativa per il 14esimo anniversario del sisma del 6 aprile, assieme al Sindaco di Monteriale Massimiliano Giorgi, Vice Coordinatore dei Sindaci del Clatere, e Gian, sulla ragazza che accenderà il bracere a Piazzale Paoli al Parco della Memoria la notte del 5. La scelta di questa ragazza è intanto perché è una studentessa del Gran Sasso Science Institute e quindi è una cittadina aquilana a tutti gli effetti, a dimostrare l'internazionalizzazione che l'Aquila sta assumendo grazie a questo ruolo di città della conoscenza. L'abbiamo scelta per manifestare, per ribadire la solidarietà della città dell'Aquila e dell'intero cratere alle popolazioni turchia e siriana che sono state colpite in maniera così devastante dal terremoto di qualche settimana fa e anche affinché l'accensione del bracere, così come l'anno scorso è stato ad opera di rappresentanti della comunità ucraina, segni anche una luce di speranza per popolazioni che stanno vivendo delle tragedie incredibili. Una ragazza turca, una dottoranda del Gran Sasso Science Institute, per rimarcare l'internazionalità della città come luogo di conoscenza e anche per ribadire la vicinanza dell'Aquila che ha subito quella tragedia alla popolazione turca e siriana colpita dal terremoto. Anche quest'anno il fiore della memoria, la spilletta commemorativa creata dal comune, sarà distribuito in scuole, città, parrocchie e rappresentanti nazionali del governo, oltre che a testimoni al dispessore che vogliono bene all'Aquila, rinnovato l'invito a Lancest e a tutti gli italiani per accendere una luce nella notte tra il 5 e il 6 aprile. Molto contenta Ciansu di avere questo ruolo, del resto le due comunità hanno vissuto una tragedia simile. L'Aquila è rinascita, ha spiegato la ragazza turca del Gran Sasso Science Institute, e si deve costruire meglio anche in Turchia perché la città dell'Aquila deve essere presa ad esempio. Per quel che riguarda le iniziative nello specifico che verranno confermate a breve, ci sarà la messa alle 18 del 5 aprile alle Anime Sante, alle 21.30, raggruppamento per la fiaccolata e poi la partenza, l'arrivo al Parco della Memoria con l'accensione del bracero e la lettura dei nomi, alle 3.32 rintocchi delle campane, i 309 rintocchi. Il giorno successivo altre iniziative, ci sarà la deposizione di un cuscino dinanzi alla casa dello studente dedicato ad Antonietta Centofanti, oltre alla cerimonia della Guardia di Finanza. Dal governo nazionale hanno confermato la presenza il sottosegretario agli interni Emanuele Prisco e il sottosegretario Bergamotto.